Dal 19 novembre al 30 dicembre arriva Musica in ospedale nella città metropolitana, il nuovo progetto di Agimus Firenze che porterà la musica in quattro nuovi presidi ospedalieri della Toscana, Fucecchio, Empoli, Figline Valdarno e Borgo San Lorenzo. Il progetto è realizzato grazie al contributo della città metropolitana di Firenze e vedrà la collaborazione di numerose associazioni del territorio tra cui CFCM di Sovegliana, Scuola di Musica Comunale di Borgo San Lorenzo, Scuola di Musica Schumann di Figline Valdarno e Associazione Giotto in Musica. Per Agimus è un traguardo importante che fa sì che la musica raggiunga nove presidi ospedalieri in tutta la Toscana per cui ci auguriamo che sia uno stimolo importante per portare la musica sempre più vicino alle persone. Grazie. Grazie.